Benvenuti ragazzi, in questo video vi spiegheremo cosa succede con Visual Boy Advance 1.92, il migliore che c'è sulla rete Cosa succede? Veramente non è nostro GV a questo? Sì, questo è l'emulatore, non c'entro Ah sì Vedrete cosa succede quando si mette dell'erba alta a Biancavilla E in quell'erba alta, quando tu non hai ancora Pokémon, si mette un Arcanine livello 120 E tu ti chiami Sméagol Ah beh, che vuoi che sia Esco di casa C'è la cosa più preoccupante è Sméagol Sì, oh guarda dell'erba, non ho Pokémon, però sono Pirla, ci vado No, dovrei andare a leggere il cartello Che bella Arcanine Oh, livello 1, è facile, vediamo il mio Pokémon Che fettacolare Senza vita Oh mio Dio, lotta Livello 0 Non ha più mosse, quante ne usate troppe, ne usate veramente troppo Salvati con usazione E muore Esausto Sméagol non ha più Pokémon utili Nel panico Sméagol perde 8 euro Un anello Sméagol è fuori combattimento La compagnia dell'anello La compagnia dell'anello ha vinto Pokémon Sméagol corre a ca Il mio tessaro Il mio tessaro Mamma, Sméagol Sembra che tu stia vivendo una grande avventura Devi smetterla, basta Mi fai stare in pensiero Ho appena accorgato a vestire posati un po' E muore Perfetto, ora tutto il po' che non si ti mette a fuoco Appena sentito il professor Mi ha detto che la decena Bla 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 Bravo Aspetta è molto grande aspetta prima di uscire dobbiamo andare a leggere quel cartello Andiamo a leggere il cartello Li proviamo E ancora